Lucca in Musica 2013 torna all'evento musicale organizzato dall'Associazione Musicale Lucchese e Teatro del Giglio, giunta quest'anno all'undicesima edizione, con un fitto calendario di spettacoli, concerti, ma anche conferenze musicali e film, in programma da aprile a giugno. Si inizia venerdì 5 aprile nella Basilica di San Frediano con l'Orchestra dei Giovani dell'Unione Europea, che seguirà un programma dedicato al Novecento. Si prosegue domenica 21 aprile con il concerto spettacolo in scena al Teatro del Giglio, stavolta le fiabe, di Enzo Iacchetti, con i filarmonici di Busseto e le immagini di Leo Ortolani. Si tratta di un viaggio nel mondo fantasioso delle fiabe musicate, in cui il noto attore, accompagnato da musicisti straordinari, veste i panni di una delle più famose narrazioni per bambini della storia della letteratura e della musica, lo schiaccianoci e Pierino e lupo, in uno spettacolo perfetto per le famiglie. È la volta poi il 21 maggio del concerto Omaggio a Giuseppe Verdi, con l'Orchestra di Lucca in Musica. Gli ultimi due concerti, del 31 maggio e 7 giugno, sono affidati all'Orchestra della Toscana, formata da 45 musicisti, tutti professionisti eccellenti che sono stati applauditi nei più importanti teatri italiani. A questo fitto programma di eventi si aggiungono conferenze, un omaggio a Verdi e Wagner e film dei più celebri spettacoli teatrali, quali La Traviata o La Ida, che verranno proiettati al Cinema Italia.